Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash Oggi siamo con l'account di Malik199 che ringrazio perché mi fa fare questo rolling da ben 22k jumps ragazzi Non ho mai droppato finora a me cessa ma lui sta cercando eroi importanti tipo Golem e Teschio anche oltre che a Nubis Quindi dobbiamo assolutamente oggi con questo caldo atroce ragazzi mi sono messo anche la maglietta Quindi dobbiamo assolutamente trovare un nuovo cazzutissimo eroe su questo account Quindi lasciate un bel mi piace ancora prima di iniziare perché sono sicuro che questo mi piace porterà un sacco di fortuna E andiamo subito a cominciare con questo roll ma prima eccolo vetto lo schiudiamo ci sta tutto Iniziamo subito ragazzi con il primo roll gratis non porta bene soltanto un blu e subito il 30 euro ragazzi Ci subisce subito un leggendario andiamo con qualche singolo e diamo un po' assassini Il triplone non porta niente 150 ci subisce subito con un 30 euro ma dopo una sequela di blu Ragazzi dai sirena sirena non è né me stessa né a Nubis Dai un bel a Nubis ci sta tutto quanto droppi a Nubis Tre gelatine di cui una leggendare giuduro ragazzi sciamano L'icantro poi attenzione il bel triplone con babbo babbo A Nubis poi cazzo no no dai linfa di cristallo campione gelatinoso altri campioni come se non ci fosse un domani l'alchimista Dai l'altra volta abbiamo droppato nell'ultimo video roll che se non l'avete visto ragazzi ve lo lascio qui sopra in descrizione Speriamo che me lo ricordo di aggiungerlo Sono usciti a fare un sacco di eroi ed ecco il doppio leggendario con spezzaculi e cupido Spezzaculi che sinceramente non so se lo ha ma lo andremo a vedere in seguito Spezzaculi e cupido andiamo con un altro triplone e niente da fare Allora lo facciamo respirare con qualche rollettino singolo Prima di spaccarci il triplone ma niente solo la gelatina viola ragazzi la temperatura aumenta E aumenta anche la probabilità di droppare a Nubis nel prossimo Anzi non nel prossimo fatemene fare tre singoli ecco adesso a Nubis No niente da fare che polle Attenzione un'altra 30 euro c'è 44 fottutissimi eroi tipo ci sono e sono usciti due 30 euro incredibile 150 vediamo un po' 450 niente niente sirena dai ragazzi che cazzo due sirene e due 30 auri Ma no eh quando butta così no no mancano 8k gems ragazzi 8k gems Dobbiamo assolutamente beccare un teschio un golem o un Anubis Attenzione 150 Anubis Golem Deschio Golem Niente da fare niente Campione gelati culo dai cioè me lo devi me lo devi uscire adesso No dai che cazzo attenzione No No Non può essere Tre fottutissime sirene Del Cazzo Non ci posso credere Come è possibile adesso devi uscire a Nubis Ora No niente Dopo tutte queste sirene praticamente adesso mi dice gli leggendari te li ho dati No non ci sto non ci sto Golem No ma vaffanculo è incredibile Dai ti prego Dai ti prego Il culimmino le di lio Le di tristezza lio Ti prego Golem Su Ti prego Uscite fuori Un triplone tutti e tre Un triplone tutti e tre si dopo Perché Li ha fatti pure uscire leggendari tutti sfigatini però tutti uguali Deve uscire con 3000 assolutamente Un Anubis Singolo Singolo Eccolo no Il truido La tristezza druidistica 4 e 5 Un altro Un altro Niente ragazzi Mancano 1200 Le nasciamo qualcuno Candy Cagna Candy Cagnaccia Non ci posso credere Dovevano uscire tutti altri eroi In questo role Tutti altri eroi Ultimissimi E' il miracolo qui ragazzi Ci vuole Il miracolo Un 4 e 50 Faccio ben dato ragazzi Questo 4 e 50 Dovece uscire Golem Teschio E Anubis Possibilità 0% Incredibile Un cavalier morte Ma non poteva esserci un bel Un bel sostanzioso Anubis O pure un teschio Cazzutissimo Eh il cavalier c'era ragazzi Il cavalier c'era Ma non è abbassato Non è abbassato Non è abbassato Sono usciti un sacco Di eroi leggendari Ma davvero un sacco Eppure non siamo riusciti A beccare Adesso diventa Ragazzi è vero impossibile Anche se in questo video E' successa una cosa incredibile Cioè abbiamo beccato 3 sirene E 2 trentauri Cioè una roba Che non ci si può credere Volevo salutare anche Danco98 Mi ha chiesto di salutare Quindi lo saluto Ben volentieri E prendo anche queste 3 ovette Gli andiamo a mettere In schiusa Ma comunque Qualche copia Di Trent Per l'evoluzione Una di spezzaculi Anche che gli serve Per Evo Sono usciti Insomma qualche copia Che gli poteva servire Uscita Ma ragazzi Poteva andare drasticamente Ma drasticamente Meglio Ringrazio Malik199 Per avermi fatto fare Questo video Anche per la visione Lasciate un bel like E un commento Io vi saluto E ci vediamo come sempre Nel prossimo video Ero Grazie per la visione!